Incidente stradale nella notte a Porto Gruaro, il bilancio di due feriti. Sciamme sismico tra Tolmezzo e Gemona, con tanto di scossa di terremoto 3.9, che ha svegliato nel sonno la popolazione, per fortuna nessun danno a persone e strutture. De grado e decoro urbano, la polizia locale di Pordenone fa un bilancio del primo semestre del 2018. A Marghera la polizia di Stato rintraccia uno straniero che più volte era stato espulso dall'Italia. Aggredisce senza motivo uno straniero che dorme in stazione, denunciato dalla polizia di Udine. Ben ritrovati dunque, grazie ancora una volta gentili telespettatori per aver scelto la nostra emittente televisiva. I principali titoli li avete ascoltati, è stata una giornata contrassegnata da un incidente stradale che si è verificato in Veneto. Parleremo dell'esodo, probabilmente l'ultimo verso le spiagge, le montagne, i laghi di questa caldissima estate. Parleremo anche di operazioni della polizia, dello sciame sismico che da stamattina sta interessando il Friuli, in particolare la zona compresa tra Tolmezzo e Gemona. Poi avremo i soliti ospiti, parleremo anche di politica e anche appunto di casi che hanno dell'incredibile. Non vi aggiungo altro, andiamo subito a leggere la domanda che avevamo posto nell'edizione precedente. Berlusconi, il governo Lega Movimento 5 Stelle sta danneggiando l'Italia e pertanto finirà molto presto. Quindi questo è l'auspicio, anzi forse la profezia del Cavaliere Berlusconi, siete d'accordo? Voi avete risposto 12% sì, mentre il restante no per cento, no appunto l'88%. Insomma viene da dire che la maggior parte di voi ha detto ma lasciamoli governare, hanno appena cominciato, si aggrappano quindi la maggior parte dei cittadini a questo governo Lega Movimento 5 Stelle. La domanda che invece vi presentiamo in questa edizione è relativa a un argomento, a un fatto che abbiamo già commentato ampiamente ieri sera. Allora leggiamola subito Maurizio, tornare alla famiglia tradizionale, cioè basta genitore 1 e genitore 2. La famiglia tradizionale quindi padre e madre. La formula genitore 1 e genitore 2 è scomparsa dai moduli ufficiali messi a disposizione dei cittadini dal Ministero dell'Interno per richiedere la carta di identità elettronica, dove appariva la formula ideata tutela dei nuclei LGTB, ovvero lesbiche, gay, transgender e bisessuali, ovvero quelli con due mamme o due papà, ora c'è semplicemente la dicitura genitori. Non padre e madre, come annunciato da Matteo Salvini in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi. La settimana scorsa, tuona il Ministro dell'Interno, mi è stato segnalato che sul sito proprio del Ministero, sui moduli per la carta di identità elettronica c'erano genitore 1 e genitore 2. Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione padre e madre. Siete d'accordo quindi con Matteo Salvini? Bisogna tornare alla famiglia tradizionale? Basta genitore 1 e genitore 2, ma padre e madre. Siete d'accordo? SMS e Whatsapp 393 93 24 336, la nostra email telepordenone.it, la nostra pagina web con lo streaming telepordenone.tv e i nostri canali social, in particolare Facebook ed Instagram. Apriamo dunque il telegiornale, incidente nella notte a Porto Gruaro, il bilancio è di due feriti, le servizie lo firma Alessio Conforti. Incidente stradale poco prima della mezzanotte a Porto Gruaro, all'incrocio tra Viale Udine e Via Gervino, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un sinistro, il cui bilancio è di due feriti ricoverati nel nosocomio della città dell'Emene, fortunatamente in condizioni non gravi. I pompieri, accorsi dal locale di stancamento, hanno messo in sicurezza l'auto carambolata fuori strada ed estratto, assieme con i medici del Suem 118, i due feriti stabilizzati dai sanitari per essere trasferiti in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore. È immutata da questa mattina presto la situazione della viabilità sulla 4 Trieste-Venezia. Il traffico che già durante la notte è stato molto sostenuto, senza mai calare, se non per un paio d'ore, tra le 8 e le 10 del mattino è super intenso e le code a Fisarmonica si distribuiscono in più punti dell'asse autostradale. Alle 14 del pomeriggio le code in uscita Trieste-Liser erano di 3 km e code si registravano lungo tutto il tratto San Donati-Piave-San Giorgio con qualche congestione in tratti diversi. Nei pressi dello svincolo di Cessalto in direzione Trieste un bus a carico di persone ha avuto un guasto e si è fermato in corsia di marcia, creando notevoli rallentamenti. Nonostante le dimensioni, i mezzi di autovie sono riusciti a spostarlo in sicurezza in attesa del caro attrezzi, i flussi, è bene ricordarlo, non dovrebbero aumentare ulteriormente, ma la situazione non si alleggerirà ovviamente prima della nottata. Vediamo, abbiamo già il collegamento telefonico con l'Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia. Livio Stefanutto, allora il meteo per i prossimi giorni, cosa ci puoi dire? Sì, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo avuto un po' di temporali, specialmente in montagna, dove ha piovuto nel pomeriggio tra i 20 e i 40 millimetri. Domani il tempo dovrà essere più stabile, specialmente in mattinata, ci aspettiamo il cielo probabilmente sereno o poco nuvoloso. Poi nel pomeriggio forse qualche nuvola in montagna, ma non dovremmo avere domani né piogge, né rovesci, né temporali, perché l'altra sera è un po' più stabile, c'è una temporanea rimonta anticiclonica, quindi che manterrà tempo bello sulla nostra regione. Sempre temperature estive, temperature massime attorno ai 33-34 gradi in pianura, attorno ai 31 sulla costa, al mattino soffierà probabilmente un po' di vento di bora, che da potrebbe girare in brezza nel corso del pomeriggio. Anche lunedì inizialmente bel tempo, e poi un nuovo peggioramento, c'è un fronte che ci interesserà nella giornata di martedì, ma sarà preceduto da correnti sud-occidentali, che già lunedì pomeriggio potrà portare qualche temporale in montagna, e poi forse del pomeriggio sera anche su Prenore Costa. È tutto, buona domenica. Grazie come sempre a Livio Stefanutto, gli amici dell'Osmer Arpa delle Friuli Verenze a Giulia, che quotidianamente ci aggiorano proprio sulle condizioni meteorologiche. E parliamo proprio di terremoto, lo scisma che si è verificato, ed è ancora in corso tratto il mezzo e Gemona, con tanto discossa di magnitudo. 3.9 è registrata all'alba, che ha svegliato nel sonno la popolazione. Per fortuna nessun danno a persone e a strutture, ma ai più è venuto in mente appunto l'Orcolat, quello che distrusse per sempre, grazie poi anche all'opera della costruzione riavviata negli anni, il Friuli. Erano i lontani anni 70. Per fortuna insomma la situazione poi si è normalizzata. Il servizio è di Omar Costantini. Un terremoto di magnitudo 3.9 è venuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle 5.30 dal Centro Nazionale Terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata nella stessa zona una scossa di magnitudo 3.0, poi è stata rilevata un'altra di 2.3. Al momento non ci sono indicazioni di danni e persone o cose. Le scosse telluriche, soprattutto quella di magnitudo 3.9, sono state avvertite dalla cittadinanza. Molte persone sono state svegliate e decine di telefonate sono giunte ai centralini delle Forze dell'Ordine e dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. L'allarme tra la popolazione è stato però contenuto e non si sono verificati i casi di persone scese in strada, sebbene l'attenzione rimanga alta. Sono oltre 20 le scosse registrate in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella zona di Cavazzo Carnico, nell'arco di un'ora stamani. L'ultima, in ordine cronologico, al momento di andare in registrazione con il servizio, è stata segnalata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 6.52, magnitudo 2.7. Anche quest'ultima scossa dello sciame in corso è stata avvertita dalla cittadinanza, che non è particolarmente in allarme. Come detto, nessun danno segnalato. Degrado e decoro urbano. La Polizia Locale di Pordenone fa un bilancio del primo semestre del 2018. La vediamo com'è andata nel servizio di Alessio Conforti. È intensa l'attività messa in campo dalla Polizia Locale di Pordenone nei primi sei mesi dell'anno 2018. Dal comando emergono infatti importanti dati relativamente all'azione messa in campo nell'ultimo semestre. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 137, 118 quelli di un anno fa Il numero totale dei veicoli controllati sono stati 1.310, 930 nel 2017, mentre i veicoli rimossi sono stati 112. Il comando ha eseguito nell'ultimo semestre 41 controlli di polizia edilizia ed eseguito in oltre 12 d'aspo urbani. Le chiamate per disturbo da rumore sono state 65, mentre le sanzioni complessivamente contestate sono state oltre 7.800. Parlando invece di antidegrado e decoro urbano, gli interventi al 6 di agosto sono stati in totale 640 a maggio, il mese più caldo in questo senso. Gli interventi riguardano segnalazioni su criticità di aree pubbliche, buche stradali, segnali stradali, recupero di biciclette, da corsi d'acqua e via dicendo. In meno di due anni, se si considera tutto il 2017 e fino ai primi di agosto di quest'anno, gli interventi complessivi sono stati oltre 1.600. Le ispezioni sul conferimento dei rifiuti, se si calcola lo stesso periodo, sono state oltre 226. Nel 2018 fino al 6 di agosto sono state 55. I sopralluoghi hanno riguardato anche aree private in degrado, terreni incolti e verde privato in area pubblica, 122 gli interventi finora nel 2018, di cui 108 risolti. Un anno fa erano stati invece 150, di cui 129 risolti. Avevamo ragione, dichiara l'assessore alla sicurezza del comune di Pordenone, Emanuele Loperfido, a dare massima priorità nel voler dotare quanto prima la città di un nuovo regolamento di polizia urbana che consentisse alle professionalità presenti all'interno del nostro comando di esercitare le proprie competenze volte alla tutela dei beni pubblici e privati e alla vivibilità della nostra città. Pensate, contratta il prezzo di un Apollo con le maniche corte al mercato cittadino, non ottiene ciò che vuole, si arrabbia con l'ambulante e lo manda a quel paese offendendo anche la moglie. Il commerciante a quel punto gli sferra un cazzotto in faccia che tramortisce il potenziale cliente. Attimi di tensione questa mattina a Pordenone, in piazza 20 Settembre, durante il mercato cittadino. Scusi, vorrei quella maglietta, ma costa troppo, potrebbe scontarmela, avrebbe appunto chiesto l'uomo all'ambulante. Mi dispiace, meno di così non posso farle, avrebbe risposto il commerciante. E allora va a fare, ovviamente puntini puntini, tu e tua moglie, l'epiteto è impronunciabile, è irripetibile, le parole pronunciate dal potenziale cliente prima di andarsene. L'ambulante non ci ha più visto e ha sferrato un cazzotto in faccia all'altro uomo. Un pugno tanto forte quanto preciso che lo ha fatto cadere a terra. È stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 insieme a due pattuglie della polizia locale. La persona colpita diceva di avere giramenti di testa, di non vedere molto bene. È stato così condotto per accertamenti all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordeone. Probabilmente si procederà con una querela di parte. Proseguiamo il telegiornale perché a Marghera la polizia di Stato ha rintracciato uno straniero che più volte era stato espulso dall'Italia. Alessio Conforti ci racconta i dettagli dell'operazione. Da mesi imperversava a Marghera nonostante fosse stato più volte espulso ma puntualmente aveva fatto ritorno nel territorio veneziano. La polizia di Stato ha rintracciato nelle scorse ore lo straniero Miti Sobi sulle cui tracce vi era da qualche giorno la questura. Gli agenti hanno fatto irruzione presso uno stabile abbandonato, certi di trovare all'interno il soggetto in questione e così effettivamente è stato. L'extracomunitario in un primo momento ha cercato di far desistere gli agenti arrampicandosi su un mezzo scavatore che si trovava nelle vicinanze ma, vistosi in trappola, è sceso subito dopo e ha cercato comunque di guadagnare la fuga. Gli agenti non si sono fatti cogliere di sorpresa bloccando subito l'uomo. Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, dopo i necessari accertamenti compiuti dall'ufficio Immigrazione della Questura, è partito un servizio di scorta che ha portato lo straniero in aeroporto dove, ad attenderlo, unitamente ad altri soggetti extracomunitari da espelere dal territorio nazionale, vi era un aereo della Guardia di Finanza appositamente dedicato. L'uomo è stato condotto al centro per il rimpatrio di Bari. Aggredisce senza motivo uno straniero che dorme in stazione, denunciato dalla Polizia a Udine. Il servizio della nostra redazione. Un cittadino italiano di 55 anni, residente fuori città, è stato denunciato dalla Polizia per aver aggredito senza apparente motivo un cittadino marocchino di 41 anni che riposava nella zona dell'autostazione di Udine, colpendolo a calci e ferendolo con i cocci di una bottiglia. Le volanti della Questura di Udine sono intervenute sul posto in seguito alla segnalazione di un'accesa discussione tra due persone. In zona hanno trovato la vittima, ferita e sanguinante, che ha detto di essere stata sorpresa mentre riposava da un uomo conosciuto di vista, frequentatore della zona della stazione. L'uomo lo avrebbe colpito con calci al volto, o poi è la sua reazione, lo avrebbe ferito con i cocci di bottiglia e forse un coltellino. Accompagnata in ospedale, la vittima è stata dimessa questa mattina con una prognosi di 15 giorni. Raccolta la sua denuncia, la Polizia ha subito individuato il presunto aggressore e lo ha raggiunto nei locali del CERT di Udine. Nei confronti dell'uomo è stato emesso un foglio di via da Udine. Ci trasferiamo in Veneto, parliamo di legittima difesa con l'ospite di Alessio Conforti. Grazie, siamo in compagnia dell'Avvocato Marco Nicodemo. Parliamo di legittima difesa perché se ne discute anche in questa estate. Ovviamente staremo a vedere che cosa vorrà fare il Governo, visto che in un tema così importante e discusso, il Governo già nei mesi scorsi in campagna elettorale aveva fatto ben capire le proprie posizioni. Mi riferisco per esempio alla Lega, ovviamente. Avvocato Nicodemo, riformare questo principio della legittima difesa, magari partendo dalla proprietà privata, sarà un limite insormontabile politicamente secondo lei? Sì, questo della legittima difesa è un grandissimo e importantissimo argomento, che però sicuramente andrà nel mese di settembre, ottobre, quando poi si andrà nel merito della legge, imporrà delle discussioni e delle problematiche enormi e che ancora continueranno a dividere proprio l'Italia nel versocio della parola. In quanto troveremo sempre delle persone che sono favorevoli, altri che saranno contrari a questo tipo di... a seconda di come la legge verrà impostata e di come poi la normativa verrà poi adottata. La cosa però che mi piacerebbe molto sottolineare, senza andare adesso nel merito delle problematicità che fa insorgere la legge, delle disquisizioni giuridiche che sentiremo nei prossimi mesi e che alla gente, perdonatemi, non interessa niente, perché alla fine alla gente sentir parlare del diritto, delle virgole del diritto, credo che abbia un interesse limitato. Diciamo che anche qui è con una soluzione quale sarebbe importantissima per superare i limiti e le discussioni che avverranno nella prossima discussione in Parlamento. Sarebbe quella, come ci siamo detti anche in altre trasmissioni in questa televisione, quella che basterebbe aumentare l'organico, far sì che ci sia la polizia, i carabinieri e tutte le forze dell'ordine girino di più nel territorio. Però ho anche avvocato il discorso della proporzionalità dell'offesa in base a lì anche che la gente si chiede ma devo aspettare per agire in base a quanto proporzionale sia? Come faccio a capirlo prima quando ho davanti magari qualcuno in casa? Infatti, tecnicamente, ma per non andare sempre come dico, tecnicamente nel merito delle cose, la cosa, l'obiezione che lei ha tirato fuori è correttissima in quanto cos'è la proporzione che può nascere da questa legge? Che un bambino che entra dentro, perde il pallone, entra dentro in una recensione, il titolare, il proprietario della casa, vede, sente delle mosse, delle persone che si muovono, prende, ha una pistola e spara. Ecco, questo sarà il grandissimo limite, lì bisognerà fare chiarezza perché è il vero punto debole di questa normativa che deve essere attuata. Viene detto dai propositori che questo problema verrà eliminato in quanto questo caso portato al limite non succederà. Io qui faccio le mie riserve, spero che i giuristi vengano poi in aiuto e cerchino appunto di eliminare questo problema, che questa sarà la grande discriminante tra l'uno e l'altro. Bene, grazie a Marco Nicodemo, noi ci torneremo ovviamente, conosceranno delle novità come un po' tutte le altre di natura giuridica, normativa. Grazie per essere stato con noi, linea che può tornare a Pordenone. Operazione nazionale della Polizia in tutte le stazioni ferroviarie a Meste controllate. Oltre 100 persone, non sono mancate le espulsioni. Il servizio Anche la stazione di Mestre è stata interessata dall'operazione nazionale della Polizia di Stato denominata Summer Clean Station che si è svolta sull'intero territorio presso 10 delle principali mete ferroviarie del bel paese. In questo contesto è stata data esecuzione ad un'attività straordinaria di controllo di viaggiatori e bagagli sia all'interno della stazione di Mestre che nei sottopassi ciclopedonali e nelle aree immediatamente vicine, spesso frequentate da persone dedicate ad attività illecite. Nell'operazione sono state impiegate 16 pattuglie con complessivamente 70 agenti. Le persone controllate sono state 130 e per tre di loro irregolarmente presenti sul territorio nazionale sono state avviate le procedure per l'espulsione. Nell'ambito dell'operazione due giovani donne straniere sono state indagate in stato di libertà per il reato di ricettazione. Le due sono state notate dagli agenti in borghese mentre in una via nei pressi della stazione si dividevano un certo numero di banconotte che poi nascondevano sotto alla camicia. Trattasi di 130 euro e 1000 yuan cinesi sul cui possesso non sono riuscite a dare giustificazioni credibili alla polizia e che pertanto sono state sottoposte a sequestro. Accompagnate in ufficio e compiutamente identificate le due di nazionalità bulgara sono risultate avere a loro carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Parliamo adesso di Trieste Airport l'aeroporto è appunto all'avanguardia della nostra regione con le dichiarazioni dell'assessore regionale Pizzimenti. Una nuova direttiva che vengono date appunto a chi dovrà fare la gara quindi a Trieste Airport per quanto riguarda la vendita delle azioni dell'aeroporto stesso. La gara precedente era andata deserta abbiamo confrontato i vari punti per capire quali erano le criticità di questa gara e è stato così intanto deciso quali sono le linee guida da dare appunto alla nuova gara fondamentalmente sono due, anzi tre la prima che la maggioranza venga data subito al 55% a chi investe appunto all'aeroporto la seconda che i parametri di valutazione del nuovo soggetto si sono ridotti da 5 a 3 la terza è che si calcoleranno e si vedranno i benefici di questa nuova società che verrà fuori con l'ingresso del privato dopo 4 anni e non più dopo 3. Ci trasferiamo in Veneto adesso con l'ospite di Alessio Conforti analizziamo la tematica della politica Grazie siamo in compagnia di Giorgio Barro che è consigliere comunale per la lista Noi siamo Porto Gruaro ovviamente il tema è quello relativo al tema della maggioranza che ha fatto discutere in questi giorni Barro, lei tra l'altro ha preso le difese del sindaco Maria Teresa Senatore a seguito dell'invito all'atleta azzurra Daisy Osakwe possiamo dire che da un certo punto di vista è un po' rientrata questa polemica almeno quello che sembra poi bisognerà capire cosa succederà nelle prossime settimane Allora mi sembra che innanzitutto la polemica relativa al fatto dell'invito a Daisy sia un po' scemmata perché è stata un po' è servita per tirare fuori altre cose comunque vorrei anche portare un po' di chiarezza e serenità per quanto riguarda l'amministrazione portugale che sta correndo rischi al di là dei titoli quindi da noi di nuovo alla fiducia al sindaco il sindaco ha fatto semplicemente un invito a Daisy una cosa molto normale a una sportiva per un evento sportivo che ha subito una violenza tutta la dietrologia l'ha fatta dopo la Lega certo il sindaco per me è stato molto spontaneo in questo gesto non avrà il dono dell'empattia ma sicuramente è un gesto genuino e sano devo anche permettere che noi in questi anni dopo sembra che ci sia nata una polemica tra noi e la Lega noi abbiamo lavorato bene anche con le altre amministrazioni perché abbiamo lavorato bene? perché abbiamo sempre tenuto fuori la politica nazionale e quindi io trovo assolutamente fuori luogo l'intervento del segretario provinciale della Lega che parla di tagliando di che? Il tagliando se lo faccia a casa sua innanzitutto perché questa cosa qua a noi sembra ricordiamo ai telespettatori tagliando nel senso che la Lega e il segretario provinciale diceva c'è bisogno di un cambiamento tagliando nel senso un nuovo sindaco tagliato l'amministrazione ha specificato un tagliando all'interno dell'amministrazione gli ricordo che lui ha poca memoria storica che questa amministrazione ha vinto perché c'erano le liste civiche che gestivano me e anche le liste civiche del consigliere Scarpa quindi che non pensi dall'entusiasmo dei sondaggi poi se loro devono coprire il decreto poca dignità come lo chiamo io e poi aggiungiamo anche adesso che salta fuori anche la storia che non c'erano più finanziamenti per quanto riguarda le periferie è chiaro che questo polverone serve per coprire qualcos'altro però Lega è anche un suo alleato ma assolutamente infatti ho premesso che noi abbiamo lavorato bene fin quando questi non stanno fuori perché è proprio questo il problema il problema che è da forza quella che è la nostra idea quando siamo partiti con la nostra avventura delle liste civiche è che la politica deve essere fuori la politica nazionale dall'amministrazione perché non c'è nessuna differenza tra il PD e la Lega al di là delle idee ma la metodologia è uguale però la Lega governa a livello nazionale però governa ma sì ma dopo sono sondaggi sono presi dall'entusiasmo comunque l'unica cosa che volevo anche aggiungere è che noi all'inizio di questa avventura amministrativa sembravamo quelli meno seri quelli che mettevano più in difficoltà l'amministrazione invece noi abbiamo confermato e dimostrato che sappiamo governare che siamo seri che non andiamo dietro a dover servire le ideologie e quindi dal nostro punto di vista si continua così fino a fine amministrativa perché non sarà un delegato di partito che dirà se la senatore ha amministrato bene saranno i cittadini che lo faranno le prossime amministrative se la sindaca si candiderà il resto se loro vogliono fare qualcos'altro bavano sfiduciano non vengono in consiglio comunale ma per favore stiano a casa loro i vari segretari di partito bene questa è la presa di posizione di Giorgio Barro grazie per essere stato grazie a voi che avete sempre attenzione al territorio e noi facciamo il nostro lavoro cosa vuole che le dica Giorgio Barro questo è il nostro lavoro oggi che non sono in versione geologo ci mancherà grazie andiamo allora con il nostro primo ospite il sindaco di San Vito al Tagliamento Antonio Di Griscegli ben ritrovato sindaco allora le pillole della settimana quali sono? la prima è questa che è conseguenza della splendida serata di ieri sera a San Vito al Tagliamento una piazza a Stracolma una scena una scena davvero molto ma molto bella e suggestiva per il Nabucco con una esecuzione magistrale che davvero ha entusiasmato le mille persone presenti in piazza grande successo credo sottolineato anche da parte delle autorità presenti mi riferisco in particolare del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia la cosa più importante è che ieri sera anche con questo successo si è sancito l'avvio di quello che vogliamo possa essere il circuito della lirica in Friuli Venezia Giulia rappresenta il sindaco di Tolmezzo San Vito Grado sono i tre comuni che avvieranno questo circuito già dal prossimo anno quest'anno vi è stato un assaggio con Tolmezzo e San Vito i luoghi dove si è per l'appunto eseguito il Nabucco la seconda la seconda è come dire quella derivante da quanto abbiamo deliberato in giunta giovedì ovvero la giunta ha deciso di dare corso ad una convenzione con la fondazione Falcon Vial per istituire un nuovo servizio nei locali che la fondazione metterà a disposizione un nuovo servizio consistente nella sala studio per studenti universitari credo che sia una cosa di grande rilievo fatto che si possa corrispondere ad una richiesta che c'era stata fatta da parte di alcuni studenti studenti universitari di poter avere un luogo dove studiare ci riferiamo a tanti studenti pendolari ci riferiamo a tanti studenti che non hanno sempre la possibilità di studiare nei locali domestici e così via è un nuovo servizio che ci pare particolarmente importante e che vuole proprio contribuire a mettere gli studenti nelle condizioni e di proseguire gli studi dopo essersi diplomati e quelli che sono all'università di poter avere un luogo adeguato per studiare terza pillola che poi riprenderemo è quella riguardante due iniziative la prima è quella del domenica 19 direttore giornata mondiale della fotografia noi la celebreremo all'Euro 11 in sala consigliare con un incontro con il grande artista Uliano Lucas è un appuntamento che mi auguro possa essere colto e apprezzato perché siamo in presenza davvero di un artista che onora la fotografia e conseguentemente sentirlo nella giornata mondiale della fotografia a San Vito in sala consigliare domenica 19 alle ore 11 e 30 penso che sia di grande rilievo poi abbiamo un altro appuntamento mi avvio verso le conclusioni delle pillole il 21 agosto prossimo venturo cade l'anniversario della scomparsa di Rossella Corazzini onoreremo questo anniversario con un grande concerto poesie musica canzoni e daremo conto anche della conclusione della raccolta di firme siamo a 1700 firme invito tutti coloro i quali non hanno ancora avuto modo di poterlo fare di recarsi negli uffici del comune per apporre la loro firma in calce alla istanza di riapertura delle indagini per la scomparsa di Rossella Corazzini e infine infine lei direttore sa che ci avviamo verso le ultime tappe della marcia per l'autismo ebbene noi l'amministrazione comunale la Somsi l'Avis il Gabbiano hanno deciso di organizzare una corriera per martedì 14 con partenza da San Vito e arrivo ad Assisi per poter essere partecipi e a fianco di Valentino Gregoris che proprio ad Assisi vedrà la conclusione della sua straordinaria iniziativa avremo la possibilità per coloro i quali vorranno essere presenti si potranno prenotare per la corriera di incontrare la sindaca di Assisi questo incontro diciamo conclusivo della marcia proprio quest'oggi ho avuto modo di parlare con la sindaca di Assisi e credo che la nostra presenza voglia cercare di significare l'attenzione che riteniamo debba esserci nei confronti di questa sindrome ecco mi permetta direttore di invitare tutti coloro i quali vogliono essere a fianco se così posso dire di Valentino Gregoris della sua marcia di questa sua volontà di evidenziare questa sindrome della necessità di essere a fianco delle famiglie che si trovano a dover fare i conti con questa sindrome allora poter venire ripeto martedì partenza da San Vito con arrivo ad Assisi e incontro con il sindaco di Assisi e con Valentino Gregoris a conclusione della marcia chiedo a tutti coloro che sono interessati di prenotarsi di prenotarsi domani giorno festivo all'ufficio IAT che è aperto in piazza del popolo ufficio IAT oppure lunedì entro le ore 12 agli uffici del comune oppure alla SOMSI all'Avis e al Gabbiano tutti queste associazioni e il comune raccolgono le prenotazioni per questa corriera per la marcia per l'autismo mi sembra un'iniziativa lodevole grazie sindaco e complimenti ovviamente a tutte le associazioni che stanno sostenendo questa marcia marcia che sta ormai facendo parlare e soprattutto sta vedendo protagonista Valentino Gregoris complimenti anche al sindaco che la sta sponsorizzando e che l'ha sponsorizzata fin dall'inizio ci vedremo con lui la settimana prossima rimaniamo in tema lui non sta facendo sicuramente un'impresa sportiva ma una marcia ma insomma i luoghi sono un po' comuni c'è una società che sta spendendo dei capitali che sta facendo veramente degli investimenti sperando che sia l'annata buona l'Udinese Calcio che è stata incontrata dal presidente della giunta regionale Fedriga e dalla Assessore Gibelli lo sport per regione Francia Giulia è fondamentale io penso che proprio attraverso lo sport non soltanto si danno un diciamo un orgoglio al territorio un orgoglio alle popolazioni che insistono in Francia Giulia ma si può fare molto anche per promuovere la nostra regione anche e soprattutto con realtà come l'Udinese che hanno rilevanza internazionale e quindi abbinare i nostri prodotti le nostre tipicità il nostro territorio a chi può portare questa diciamo questa visibilità in giro per il mondo è fondamentale su questo noi ci crediamo molto e penso che potremo fare degli ottimi progetti insieme questa domenica ricorre una festa particolare secondo il calendario liturgico della tradizione cattolica di che si tratta alla Santissima è prevista qualche celebrazione per il 15 agosto festa della Assunta Giordano Brunettin ben trovati certo direttore questa domenica che sarà la dodicesima dopo Pentecoste ricorre la solidità la festa quindi Santa Chiara d'Assisi che è fondatrice insieme con San Francesco dell'Ordine delle Clarisse cioè l'Ordine Femminile Francescano ora verrà celebrata questa festa questa domenica 12 agosto ma in verità la riforma del calendario liturgico succeduta al Concilio Vaticano II ha traslato questa festa all'11 di agosto anche qui è una sorta di manomissione di quello che era una tradizione secolare la data del 12 agosto era stata stabilita per la festività di questa Santa proprio nell'atto della canonizzazione venuto da Nagni per volontà di Papa Alessandro IV nel 1255 quindi al di là di queste solite considerazioni su queste traslazioni dei Santi dovute a questo disordine possiamo dire liturgico questa domenica appunto la Santissima qui a Bordenone verrà cantata la Messa con la commemorazione di Santa Chiara ma perché è così importante questa Santa perché è mostrata alla cristianità come esempio perché viene commemorata appunto nella Messa certamente un punto importante è quello dell'assoluta adesione alla regola francescana e quindi allo spirito della regola francescana le Clarisse e Santa Chiara hanno aderito con tutto cuore a quello che è il fondamento della vita e la spiritualità di San Francesco e di tutti coloro che vogliono seguire San Francesco cioè l'imitazione totale di Gesù Cristo un'imitazione quindi nella vita nelle opere nella spiritualità ma questo certamente punto importante che ha come conseguenza un altro punto per cui giustamente Santa Chiara viene mostrata ad esempio ovvero sia nell'imitazione nell'amore nella devozione per Gesù Cristo certamente viene inserita anche la grande devozione per la Santa Messa e per il Gesù Eucaristico ed è questo che è un elemento che è fondamentale nella vita di Santa Chiara che viene anche presentato in tutte le geografie c'è un episodio che la caratterizza lei donna debole considerata da meno all'epoca riesce a cacciare un manipolo di mercenari saraceni che stavano praticamente assediando il suo convento di San Damiano e come è riuscito a farlo questo gruppo di mercenari mandati all'assalto da Vitale di Aversa uno sgherro di Federico II che aveva posto l'assedio ad Assisi come è riuscita a cacciare questi nemici laddove nessun uomo era riuscito ma presentandosi coraggiosamente a questo nemico con il ciborio con il Gesù Eucaristico all'interno quindi quella che è la forza quella che è la sostanza della vita e quindi Chiara Santa Chiara è portata come esempio viene commemorata commemorata nella Messa proprio per il fondamento Eucaristico suo e della sua festa ricordiamo che appunto la festa è rassunta il 15 di agosto mercoledì prossimo essendo festa solenne festa grande per l'assunzione del Beate Vergine Maria in cielo verrà cantata anche quel giorno la Santa Messa della Tradizione alla Santissima Trinità in Pordenone sempre con inizio alle ore 18 Io ringrazio come sempre l'amico Giordano Brunettin e anche appunto gli amici dell'Associazione Una Voce ci rivedremo la settimana prossima con Giordano Brunettin si chiude qua la parte generale del telegiornale del Nord-Est a seguire tutte le altre notizie che arriveranno dalle redazioni di Udine e del vicino Veneto oltre al break pubblicitario davvero è tutto io come già dicevo mi assenterò per qualche giorno ma al mio posto ci sarà comunque un collega a tenervi compagnia e a darvi sicuramente le notizie aggiornate in tempo reale ci rivediamo alla prossima buona domenica ben ritrovati dunque gentili amici e amiche della visione all'ascolto continuo all'informazione su TPN per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia scongiurati 60 esuberi annunciati dall'azienda Stone italiana per le sedi di Zimella in provincia di Verona e di Villesse in provincia di Gorizia lo hanno reso noto le organizzazioni sindacali all'indomani di un incontro al Ministero del Lavoro dove è stato deciso che per le 60 unità scatterà la cassa integrazione per crisi per un periodo di 12 mesi all'incontro erano presenti i sindacati nazionali e territoriali di Filca CISL e Filea CGL si tratta di un risultato importante per il quale abbiamo lottato con impegno e pervicacia dichiarano e che consente di evitare il dimezzamento della forza lavoro impiegata nelle due sedi dell'azienda che conta un totale di 123 dipendenti positiva proseguono i sindacati un'integrazione a reddito a carico dell'azienda per i lavoratori in cassa integrazione che attraverso un incontro mensile con la RSU e con i sindacati sarà possibile monitorare la cassa integrazione e verificarne i criteri di applicazione la stona italiana produce marmo e quarzo adesso parliamo del rio Manganizza questa lunga estate calda porta in visione pure i lavori di sistemazione del rio Manganizza che attraversa tutto il territorio del comune di Manzano nasce alle pendici dei Ronchi e si getta a valle tra il torrente torre e il fiume Natisone nel Lanza a cavallo di Casali Birri e Trivignano di Nese alcuni nostri telespettatori hanno contattato chi vi parla per segnalare l'anomalia dei lavori eseguiti nella parte finale del corso d'acqua io e la mia fedele assistente videocamera in 4K ci siamo recati sul luogo del misfatto per capire e vedere cosa sia realmente successo nella tratta di Manzinello quella tra il ponte della strada provinciale del vecchio guado che collegava la postale si nota che le ruspe hanno asportato e liberato il rio da tutte le erbacce e sedimenti non solo naturali che negli anni si erano depositati all'interno del suo alveo certo che al colpo d'occhio però si nota la brutalità dei lavori forse forzando la mano oltre il dovuto l'evidenza viene a valle quando ci trasferiamo a Soleschiano dove la manganizza più che un corso d'acqua ricorda la costruzione di una nuova ciclovia in trincea pronta all'uso uno spettacolo le immagini parlano da sole veramente deprimente sogno o sondesto scusate se insisto ma non mi chiamo Evaristo ora ci sarà da capire se l'ecosistema al suo interno fauna e flora ne risentirà a breve come sostengono ambientalisti tali o pseudotali che hanno puntato il dito verso coloro che hanno ruspato il corso d'acqua senza batter ciglio oppure la manutenzione e sistemazione dell'opera idraulica darà i suoi frutti alla prima pioggia benefica per anni Gorizia è stata maltrattata dalla giunta Serracchiani che è arrivata al punto di chiudere addirittura il punto nascita e per questo oggi la città si attende molto dalla nuova amministrazione regionale e chiedo quindi il pieno appoggio per i nostri progetti di sviluppo quanto ha affermato il vice sindaco di Gorizia Stefano Ceretta nel messaggio di saluto ha portato la giunta regionale guidata dal presidente Fedriga che si è riunita nel capoluogo Isontino parlando a nome del sindaco Ziberna ancora convalescente il vice sindaco ha evidenziato che Gorizia ha tutte le potenzialità per diventare un'area di eccellenza della regione Friulig Venezia Giulia ha considerato il lavoro svolto in ambito transfrontaliero con il GECT diventato un modello europeo e alcune infrastrutture dalle indubbie prospettive come l'aeroporto Duca d'Aosta e l'autoporto non solo ha aggiunto Ceretta ci sono grandi possibilità anche in campo turistico culturale universitario ed è proprio perché crediamo fortemente nella nostra città come prima ci aveva creduto Ettore Romoli che chiediamo alla giunta regionale di affiancarci in questo nostro progetto per ridare a quest'area un nuovo sviluppo economico di cui potrebbe beneficiare tutto il Friuli Venezia Giulia periodicamente giustamente si rilancia l'appello a ridurre la burocrazia in agricoltura e nell'agroalimentare eppure alcune soluzioni sono già state individuate ma non vengono adottate perché se lo chiede AgriFood FWG l'agenzia di Cluster che dal 2013 lavora su due azioni di forte semplificazione per le piccole e micro imprese si tratta della disciplina delle piccole produzioni locali e della semplificazione autocontrollo entrambe elaborate in collaborazione con le componenti direzioni regionali competenti direzioni regionali e risultati sperimentali nel monitoraggio svolto da AgriFood FWG su un centinaio di piccole imprese hanno dimostrato dopo due anni che il livello di sicurezza delle loro produzioni è il medesimo delle aziende che adottano una procedura burocraticamente più complessa dalla sperimentazione non si è passati all'adozione le imprese operanti in regime semplificato sono circa 100 mentre il regime delle PPL è adottato da circa 70 aziende in regione vi sono circa 19.000 operatori del settore si stima che il percorso semplificato possa essere applicato all'80% con un evidente sgravio sia burocratico sia economico le aziende agricole sono oggi 15.000 di cui si stima un migliaio almeno siano potenzialmente interessate al percorso delle piccole produzioni locali così come preannunciato qualche mese fa in linea con il cronoprogramma già avviato ormai da tempo abbiamo completato l'acquisto e fornitura di nuovi giochi per i parchi urbani di Gruppignano Purgessimo e Carraria spiega l'assessore alle manutenzioni del comune di Cividale del Friuli Giuseppe Ruolo focus soprattutto sul parco dell'ESA Carraria area sulla quale l'amministrazione comunale ha realizzato vari ed importanti investimenti in questi ultimi anni e Rotary è intervenuto di recente con la piantumazione di nove alberi dove in questi giorni abbiamo fatto installare una postazione ludica multidisciplinare oltre ad un'altalena è un gioco a molle per un investimento di circa 20.000 euro un'altalena è un gioco a molla anche per il parco di Gruppignano mentre a Purgessimo verrà installata un'altalena che va a sostituire una già esistente che però non era più idonea all'utilizzo il tutto per altri ulteriori 10.000 euro spiega sempre il ruolo che ha seguito ai lavori coduato dal consigliere comunale Giovanni Cozzi e adesso parliamo di Barcolana sono 103 le proposte che Barcolana valuterà per arricchire il calendario di eventi in collaborazione con tutti gli appassionati di mare di vela e di Barcolana tante sono infatti le proposte giunte all'organizzazione da parte dei privati associazioni realtà economiche in ambiti diversi dai laboratori agli spettacoli teatrali alle visite guidate o le uscite in mare notturne grazie Trieste ha detto il presidente mitia gialuz ancora una volta la nostra città risponde con affetto inventiva creatività alle iniziative di Barcolana in due settimane oltre 100 realtà hanno compilato il nostro bando e sapete qual è l'aspetto più interessante continua il presidente che per quanto noi amiamo e conosciamo Barcolana il nostro pubblico ha saputo portarci idee che mai avremmo pensato da soli piccoli eventi e grandi progetti nuovi punti di vista e nuove interpretazioni del nostro evento ha concluso nel suo intervento Barcolana renderà noti entro il 31 agosto i risultati della selezione Nicola Barcolana chiudiamo la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia break pubblicitario e poi come sempre le ultime insieme dal Veneto Ben ritrovati dunque anche dalla nostra redazione del Veneto in apertura a Venezia città presa d'assalto anche in questi giorni che ci accompagnano al Ferragosto ebbene un pattugliamento è entrato in azione nel capoluogo Lagonare con due nuovi servizi per garantire a cittadini e visitatori il controllo delle aree verdi e degli arenili sono partite in queste ore e continueranno per tutta l'estate le due nuove forme di presidio nel comune guidato dal sindaco Luigi Brugnaro agenti di polizia locali in bicicletta attraverso i parchi cittadini a piedi lungo le spiagge del Lido di Venezia abbigliamento comodo e strumenti adeguati per dar vita a due iniziative sperimentali che saranno poi integrati agli altri servizi di polizia locale il pattugliamento in bicicletta ha preso il via nelle scorse ore e come detto continuerà anche nel corso dell'estate e a proposito di estate queste sono ore calde anche da un punto di vista legato agli spostamenti e insomma l'esodo ferragostano lungo le strade e le autostrade del nord-est per quanto riguarda la giornata di domani domenica 13 agosto giornata in cui i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 alle 22 il traffico sarà sostenuto in A4 in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste e Lisert ai caselli che portano alle località marittime infine la A57 sarà caratterizzata da traffico sostenuto in entrambe le direzioni elemento positivo di quest'anno rispetto al 2017 l'esiguo numero di incidenti registrato durante i weekend sinistri di lieve entità e senza conseguenze per le persone in aumento invece i guasti meccanici e di conseguenza gli interventi dei cari di soccorso per velocizzare il raggiungimento dei veicoli in panne autovie li ha fatti posizionare in punti strategici della rete fuori dai caselli torniamo al traffico perché per domani dunque non domenica 13 scusate ma domenica 12 agosto il traffico sarà sostenuto in entrambe le direzioni obiettivo per tutti il raggiungimento delle spiagge dell'alto adriatico finalmente saranno rafforzate le misure di conservazione per tutelare flora fauna e i relativi abitati alla regione ci arriva con un ritardo di 25 anni adesso però completi l'opera e stabilisca delle sanzioni adeguate in modo da non rendere tutto vano il sollecito arriva da Andrea Zanoni consigliere del partito democratico dopo il decreto firmato dal ministro dell'ambiente costa per la trasformazione in zone speciali di conservazione di 96 siti di importanza comunitaria cosiddetti SIC ai sensi della direttiva comunitaria habitat vengono finalmente rese attuative ha detto il consigliere regionale una serie di misure utili alla protezione di piante animali e luoghi dove vivono prevedendo particolari divieti e tutele la direttiva esiste dal 1992 siamo quindi in un ritardo mostruoso il governatore del Veneto Luca Zaia presente in Veneto orientale in questi giorni è intervenuto anche in relazione al congelamento dei fondi per comuni e periferie e anche sul tema relativo alla candidatura di Cortina alle prossime Olimpiadi invernali del 2026 allora sentiamo un estratto di questi due temi nel prossimo servizio il governo ha congelato i finanziamenti per quanto riguarda i comuni per le periferie guardi di questa partita anch'io ho notizia vedo però che ci sono degli aspetti da sottolineare il primo che si legge dell'incostituzionalità si dice che il congelamento e da quello che ho letto anche delle dichiarazioni degli esponenti del governo è solo un rimandare a 2020 il finanziamento il congelamento avviene per l'incostituzionalità della norma dall'altro apprendo che non tutta l'operazione aveva la copertura finanziaria e poi infine c'erano 96 comuni e pur vero che il governo ha aperto invece per il finanziamento e dar modo di investire a 8.000 comuni tutto questo però di altro non so nel senso che mi fermo qui e poi staremo a vedere nelle prossime ore che evoluzionerà tutta questa partita e Sala in merito alle Olimpiadi dice che lei ha detto delle cose non corrette ma ha detto che ha detto sciocchezze mi spiace che c'è una brutta uscita del sindaco Sala forse tra i due le sciocchezze non le ho dette io e anche perché forse è stato mai consigliato immagino che la mattina presto non si possa aver letto tutti i giornali io ho detto che il nome Alps cioè il nome sostantivo di Alpi a livello internazionale ci fa far bella figura ma il che non vuol dire che ho detto di cambiare il nome delle Olimpiadi però continuo a dire che il nome delle Alpi nei tavoli della trattativa ci farà far bella figura se poi uno a mattina presto capisce vuole capire che io ho detto di cambiare il nome delle Olimpiadi pazienza io ho altri problemi Trovo assurde e strumentali le affermazioni rilasciate dai consiglieri regionali del Partito Democratico Stefano Fracasso e Graziano Azzalin secondo le quali Zaia sarebbe il presidente più assenteista d'Italia perché preferirebbe presenziare a sagre inaugurazioni piuttosto che frequentare il consiglio regionale del Veneto forse il caldo di questi giorni confonde la mente dei colleghi democratici sono le parole della consigliera regionale della lista Zaia presidente Silvia Rizzotto che ha risposto alle accuse definite ideologiche strumentali del capogruppo PD in consiglio regionale ebbene i dati delle presenze assenze dice l'esponente di centrodestra dei consiglieri regionali non vanno letti in modo strumentale ma analizzati nella loro globalità il nostro governatore ogni giorno è impegnato nel territorio per ascoltare e tradurre in buone politiche le aspettative e le necessità del popolo Veneto il PD contesta perché ce lo invidia altro che assenteismo e dunque sempre secondo Silvia Rizzotto durante questo mandato appunto Zaia sarebbe invece stato presente perché i dati vanno contestualizzati e non presi in modo assoluto solo per mere motivazioni politiche abbiamo sentito prima il governatore del Veneto Luca Zaia intervenire sui cosiddetti fondi per le periferie al momento congelati un tema che riguarda anche il Veneto orientale in particolar modo Sandonama anche i comuni del Sandonatese piuttosto che Porto Gruaro dove il tema forte è quello dell'area dell'ex per fosfati è uno stop che non ci voleva ha detto Angelo Morsanutto assessore ai lavori pubblici del comune perché finalmente avevamo trovato un progetto che permetteva di riqualificare una zona importante della nostra città ora dovremo relazionarci con tutti i sindaci e poi dice Morsanutto con la città metropolitana di Venezia per valutare il da farsi non siamo pessimisti e speriamo che si possa trovare una via d'uscita da Concordia Sagittaria invece dove in ballo c'è la ristrutturazione del cinema il sindaco Claudio Odorico non nasconde la difficoltà e interpellato dalla nostra redazione dice contavamo su queste risorse visto che abbiamo provveduto ad eseguire tutti i passaggi sotto scrizione della convenzione con la città metropolitana progetto preliminare progetto definitivo con l'anticipazione di una somma pari a 100.000 euro se quei soldi non arriveranno dovremo trovarli dal bilancio e non sarà ha detto Odorico certo facile spiagge sicure estate 2018 a proposito di fondi invece Jesolo riceve dal governo un finanziamento di 50.000 euro per la lotta al commercio abusivo il comune incassa questa importante cifra dal governo per l'attività di contrasto all'abusivismo commerciale le risorse rientrano nella campagna spiagge sicure estate 2018 varata ad inizio luglio dal ministro dell'interno Matteo Salvini e rivolto alle località balneari italiane che si trovano a fronteggiare il fenomeno del commercio abusivo tra i requisiti che le città devono avere per poter accedere al fondo disposto dal ministero trovarsi sulla costa avere una popolazione non superiore a 50.000 residenti un numero di presenze annui all'interno delle strutture ricettive non inferiori a 500.000 persone criteri che effettivamente Jesolo rispetta in occasione dei lavori in prefettura del comitato per l'ordine della sicurezza pubblica avvenuti nelle scorse settimane il sindaco Zoggia e il comandante della polizia locale Claudio Vanin hanno sottoposto la progettualità e le azioni messe in campo che hanno consentito di ottenere il finanziamento nella misura massima prevista un fronte sul quale Jesolo tra l'altro lavora già da anni con gli agenti del corpo di polizia locale in prima linea impegnati nelle attività di pattugliamento del territorio in particolare dell'area Nile e degli accessi al mare ed ulteriori controlli sono effettuati alle fermate degli autobus e presso l'autostazione cittadina restiamo sempre nella nota località balneare veneziana perché manca poco meno di un mese al tanto atteso evento dedicato alle frecce tricolori allora sentiamo le ultime manca poco meno di un mese al tanto atteso evento a Jesolo con l'Aer Show 2018 lo spettacolo aereo che si svolge da oltre 20 anni nei cieli del litorale le date sono quelle di sabato 8 e domenica 9 settembre quando sopra l'arenile di piazza Brescia prenderanno forma acrobazie ed esibizioni di pattuglie acrobatiche militari e team civili un appuntamento ormai consolidato promosso dalla città e dall'aereoclub frecce tricolori con la collaborazione dell'agenzia prima aviation specializzata nell'organizzazione di manifestazioni aeree che attira ogni anno sul litorale centinaia di migliaia di persone con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni eseguite dai piloti con i loro velivoli lo spettacolo che vedrà la zona di display principale nell'arenile di piazza Brescia sarà comunque visibile dalla spiaggia di Jesolo per tutti i suoi circa 15 chilometri in programma esibizioni di pattuglie italiane ovviamente le prime le frecce tricolori ma anche alcune straniere che daranno vita ad uno spettacolo che come sempre sarà indimenticabile a Carle come ogni anno l'amministrazione comunale durante la stagione estiva effettua la disinfestazione contro le zanzare tramite trattamenti larvicidi ogni 20 giorni ed adulticida secondo le necessità affinché i trattamenti siano efficaci è necessario però che anche i privati intervengano nelle loro aree che rappresentano la maggior parte del verde del territorio comunale fa sapere proprio il comune in una nota l'amministrazione incentiva la disinfestazione da parte proprio del privato distribuendo gratuitamente a residenti e proprietari di seconde case il prodotto antilarvale per il trattamento delle caditoie private presso il municipio di Caorle è possibile ritirare il kit ma anche presso la delegazione comunale di San Giorgio di Livenza negli orari di apertura al pubblico a Sarna di Piave ritorna la rassegna di cinema all'aperto Cine in Città promossa dal comune di San Donà in piazza indipendenza con una serie di proiezioni all'evento lunedì 13 agosto fino al prossimo 3 settembre torniamo a Caorle perché presso l'ex azienda agricola Chigiato trova spazio il nuovissimo museo nazionale di archeologia del mare aperto al pubblico lo scorso venerdì 27 di luglio fino al 15 di settembre ogni venerdì sabato e domenica è possibile accedere agli spazi espositivi dalle 15 alle 23 mentre dal 16 settembre l'orario di apertura sarà dalle 9 alle ore 17 e con questo è tutto grazie per averci seguito linea che può passare come sempre alle nostre previsioni del tempo a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione arrivederci e buona domenica domenica 12 agosto moderate variabilità con spazi di sereno anche ampi ma alternati a qualche addensamento nuvoloso sarà possibile qualche locale pioggia a pervelente carattere di rovescio di temporale eventuali fenomeni più che altro nelle primissime ore delle ore nelle primissime ore sulla pianura centro-meridionale e in quelle pomeridiane sulle zone montane con una probabilità che nel complesso sarà bassa temperature per le minime in pianura prevarà un contenuto aumento ma per il resto si noteranno contenute variazioni di carattere locale venti in quota però più deboli da sud-ovest nelle valli generalmente deboli di direzione variabile in pianura da prima prevalentemente moderati da nord-est tendenti a divenire poi dai quadranti orientali e verso fine giornata deboli di direzione variabile mare all'inizio poco mosso anche mosso a nord in seguito da poco mosso a quasi calmo